Allora, buongiorno, ho capito che in realtà siamo tra noi, cominciamo direttamente. Ah ecco, giustamente qualcuno ancora arriva, ma io inizierei questa presentazione, per me la prima esperienza diciamo di fronte ai docenti all'interno dell'accademia, qualcuno di voi mi conosce per l'attività del PLS di biologia, quindi attività molto più orientate verso gli studenti, anche se abbiamo organizzato alcune attività anche per i docenti. Oggi l'argomento di questo incontro è sulle biotecnologie vegetali e quindi piante geneticamente modificate che so per esperienza essere un argomento che soprattutto con le classi è sempre molto dibattuto, perché è ovvio che al di là di quelli che sono i dati scientifici ci sono anche molte posizioni che riguardano un argomento di fatto molto complesso, che non ha solo l'aspetto scientifico ma una serie di ricadute che adesso oggi vedremo un po' più in dettaglio. Avevo pensato di farvelo vedere alla fine, ma forse tutto sommato è meglio farvelo vedere all'inizio uno dei tanti filmati che gli studenti possono trovare in rete, questo addirittura è fatto da studenti, solo per capire anche un attimo di fronte a che cosa ci troviamo, nel senso che spesso quello che si trova in rete e c'è tantissimo materiale, sono alcuni video che sono chiaramente molto schierati su alcune posizioni anti-OGM, però ci sono anche molti filmati che, come questo che vi faccio vedere, che presentano il problema in maniera corretta, però anche qui scappano poi una serie di informazioni che non sono delle informazioni, che abbiano delle basi scientifiche almeno per quanto ne sappiamo e quindi, visto che questo è proprio un po' un incontro anche dove mi aspetto che discutiamo anche sugli approcci che potete utilizzare nelle classi per sollevare un dibattito che non è facile, vedere anche da che cosa si parte e quindi vi faccio vedere un attimo questo filmato come tanti. Un OGM è un essere vivente che possiede un patrimonio genetico modificato. Il gene è l'unità ereditaria degli organismi viventi contenuto nel genoma di un organismo che può essere composto da RNA o DNA e dirige lo sviluppo fisico e comportamentale dell'organismo in esame. La mutazione dell'organismo avviene non tramite tecniche di miglioramento genetico, come l'incrocio o la selezione, bensì tramite tecniche di ingegneria genetica, che interviene aggiungendo, modificando o eliminando uno o più elementi genici. Gli OGM trovano applicazione soprattutto in campo alimentare, agricolo, zootecnico e medico. In Italia sono già in commercio notevoli quantità di mais, soia, colza, radicchio e tabacco geneticamente modificati, provenienti soprattutto dagli USA e i derivati della soia sono presenti nel 60% dei prodotti confezionati dall'industria alimentare. I rischi per la salute umana sono allergie ed abbassamento delle difese immunitarie, fenomeni già accertati in numerosi casi. Ma poiché molti geni introdotti negli OGM a uso alimentare non sono mai stati consumati dagli animali o dall'uomo, non è prevedibile la reazione dell'organismo che li consuma. Sono impossibili da prevedere anche le reazioni provocate dall'immissione degli OGM nell'ambiente. Le piante geneticamente modificate, resistenti a insetti ed erbicidi, rischiano di diffondersi incontrollatamente sostituendosi alla vegetazione naturale, con effetti su tutta la catena alimentare, che è invece il risultato di un lento processo avvenuto in milioni di anni. Attualmente, cibi transgenici di largo consumo, come pomodori e patate, sono in vendita negli Stati Uniti e in Inghilterra. In Italia non ne è consentita la vendita se non con l'applicazione sul prodotto OGM di un'etichetta che informa il consumatore. È invece consentito il loro utilizzo senza nessun avvertimento per materie prime alimentari in cibi preconfezionati. Nel corso del prossimo secolo, la popolazione umana potrebbe raggiungere i 12 miliardi, ma secondo i produttori di alimenti OGM, l'emergenza alimentare potrà essere soddisfatta proprio dagli organismi transgenici. Le biotecnologie forniranno piante più produttive, mentre il bestiame sarà più sano e rapido nella crescita. Queste rose e previsioni si scontrano però con la realtà attuale, che vede il 20% della popolazione consumare l'80% delle risorse disponibili. Il problema della fame nel mondo non deriva da una mancanza di materie prime, bensì da una loro squilibrata distribuzione. Oggi la produzione di OGM conviene solo a quelle multinazionali che producono alimenti e prodotti chimici come disserbanti e fertilizzanti. Le sementi OGM, progettate per produrre piante sterili, come il Terminator della Monsanto, costringono ogni anno i contadini a ricomprare i semi della multinazionale, che ne controlla e impone il prezzo. Inoltre, buona parte degli OGM è progettata per essere più resistente ai pesticidi, in modo da indurre a utilizzarne sempre maggiori quantità. Quanto agli OGM progettati per crescere più in fretta, esauriranno rapidamente il terreno che richiederà sempre più quantità di fertilizzante. Allora, vi ho fatto vedere questo filmato perché, come dicevo, ci sono... No, aspettate, che devo bloccare la... Perché ci sono delle affermazioni che sono corrette, ed è l'affermazione che non hanno nessuna base, e quindi sono un'informazione scorretta, che può indirizzare anche a certe posizioni, ma su veramente nessuna base scientifica, anzi, le basi scientifiche indicherebbero qualcos'altro. Quindi, volevo partire di qua, proprio per raccontarvi un po' che cosa sono le piante geneticamente modificate, quali sono alcuni aspetti che effettivamente ci devono mettere un po' sull'allerta per il loro utilizzo, altre invece che sono veramente quelle che vengono chiamate le fake news, oggi come oggi. Quindi, gli argomenti che pensavo un po' di trattare oggi, e interrompetemi in qualsiasi momento se ci sono dubbi, se ci sono cose che non sono chiare, o se avete qualche osservazione, qualche curiosità, sono prima di tutto che cosa sono gli OGM. Perché di fatto gli OGM sono una definizione normativa. Vedremo come la modifica genetica è qualcosa che noi operiamo sugli organismi da sempre, e quindi noi abbiamo modificato geneticamente tutto quello che coltiviamo, alleviamo e via dicendo. Quindi, l'organismo geneticamente modificato è una definizione di legge, fondamentalmente. E poi vedremo un po' perché nascono piante in particolare che hanno queste caratteristiche, di essere modificate con una certa tecnologia, che è quella che definisce la legge, e poi qualche informazione, soprattutto per chi magari non conosce tanto l'argomento, sul DNA ricombinante, quindi che cosa dobbiamo fare per ottenere una pianta geneticamente modificata, quali sono gli strumenti, e andare poi a vedere quella che è l'applicazione principale di queste piante in agricoltura, almeno non tanto in Europa quanto in altri paesi, situazione presente e prospettive anche un po' future, facendo dei casi particolari, come il caso delle piante BT, che sono state le prime piante con un'applicazione in campo negli continenti nordamericano. E poi andrei su quello che ovviamente è l'argomento più interessante in un dibattito, dopo però aver dato alcune informazioni di base, che sono le obiezioni che vengono fatte, e quindi quello che sappiamo e quello che non sappiamo sul possibile rischio delle piante geneticamente modificate rispetto a quello che possono anche essere i benefici del loro utilizzo. Allora, che cos'è un organismo geneticamente modificato? C'è una direttiva della Comunità Europea, a cui ci rifacciamo, che indica un organismo geneticamente modificato, un organismo diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento per organismi animali e la ricombinazione genetica naturale, che comprende anche le piante. Allora, una definizione di questo genere, che è un po' l'incipit, è chiaramente molto molto vaga, perché noi, per esempio, in agricoltura, utilizziamo molto spesso, ma da decenni e decenni, delle tecniche di ricombinazione genetica che non sono assolutamente naturali. Cioè, forziamo, per esempio, la formazione di ibridi e poi li induciamo ad aumentare il loro stato di ploidia, quindi otteniamo piante poliploidi, per avere delle caratteristiche di maggiori dimensioni dei frutti, per esempio, di maggiore produttività o quant'altro. Un esempio che vi porto qui è quello che va anche sotto il nome di mutation breeding, che è una tecnica che è stata molto utilizzata negli anni 50-60, che ancora viene utilizzata molto in alcuni paesi del mondo, per cui io ottengo fondamentalmente dei mutanti attraverso l'irraggiamento con delle radiazioni, miragix, che è stato anche un modo, diciamo, per trovare un utilizzo pacifico dell'energia nucleare dopo la guerra e in questo modo ottengo delle nuove varietà, delle piante con delle caratteristiche nuove che a questo punto posso andare a incrociare in modi diversi. Per esempio, questa varietà di grano creso è stata ottenuta proprio con questo sistema attraverso un irraggiamento di sementi ed è stata poi la base per una serie di incroci ibridi, quindi tra varietà diverse, addirittura specie diverse, ed è la base di molte varietà commerciali attualmente in uso. Quindi è chiaro che questa sarebbe una pianta geneticamente modificata e in modo abbastanza pesante dall'uomo ed è per questo motivo che nella direttiva si fanno poi una serie di distinguo e di specifiche, altrimenti noi dovremmo dichiarare geneticamente modificato gran parte delle piante che utilizziamo in agricoltura. C'è anche un bel servizio che ho messo poi nel materiale sulle mele che vi consiglio di andare a guardare da cui emerge chiaramente che le varietà di mele che noi usiamo oggi derivano appunto o da tecniche di questo genere o comunque da selezioni molto spinte, sono molto diverse dalle mele tradizionali. Quindi la normativa è andata poi a distinguere che cosa si intende per organismo geneticamente modificato posto l'assunto precedente e quindi qui si va nel dettaglio. Effettivamente si dà un termine, un'accezione alla parola organismo geneticamente modificato che è fondamentalmente metodologica. Quindi viene indicato come un organismo geneticamente modificato un organismo che possiede un patrimonio genetico modificante tramite tecniche di ingegneria genetica. Quindi tutto quello che è ottenuto, ad esempio il creso, irradiazione, eccetera, eccetera quello non rientra nella definizione di un organismo geneticamente modificato. Ci deve essere l'uso di tecniche di ingegneria genetica. Quindi bisogna definire che cosa sono le tecniche di ingegneria genetica e sono tecniche che prevedono la creazione di un vettore cioè un pezzo di DNA in cui io inserisco dei tratti di interesse e lo faccio in laboratorio e poi vado a inserire questo mio DNA ricombinante questo mio vettore in cui avrò ingegnerizzato dei geni che conferiscono dei tratti di interesse lo vado a reinserire nella pianta. Quindi questo è il concetto proprio importante che c'è alla base della definizione normativa di organismo geneticamente modificato. Quindi non mi importa che cosa ne viene fuori il prodotto finale uso come definizione di OGM la tecnica. E questo ha posto tra l'altro una serie di questioni abbastanza delicate perché come vi farò vedere da qualche anno ha preso piede una tecnica per modificare il genoma degli organismi che è la tecnica basata sulla cosiddetta CRISPR-Cas9 che è una nuova tecnica che viene chiamata di genome editing cioè una modifica del genoma degli organismi senza la necessità di introdurre dei vettori ricombinanti. E' quindi chiaro che se noi andiamo a guardare la definizione originale potremmo concludere che le piante geneticamente modificate cioè le piante trasformate con le ultime tecniche di ingegneria genetica non sono più degli OGM perché io non ho un vettore che rimane stabilmente all'interno di un organismo dove viene inserito tramite queste tecniche. Ma su questo poi torno perché ovviamente è una questione che ha trovato soluzioni diverse in paesi diversi quindi in Europa sono rientrati nella definizione di OGM anche se non ricadono esattamente in questo tipo di approccio tecnologico mentre in altri paesi sono stati considerati non OGM proprio perché non si utilizzano le classiche tecniche di ingegneria genetica. Quindi la definizione di OGM, ripeto, è una definizione fondamentalmente metodologica indipendentemente dal prodotto che io ottengo. Perché le piante OGM? Cioè perché si è andati su questa strada? Allora, chiaramente c'è la necessità di andare a modificare il genoma di un organismo se noi vogliamo capirne meglio le funzioni. Quindi le piante geneticamente modificate sono servite moltissimo alla biologia vegetale in particolare per capire proprio come funziona una pianta. Quindi ad esempio io attraverso queste tecniche posso andare a visualizzare inserendo geni che abbiano delle caratteristiche particolari posso andare a localizzare il punto in cui in una pianta ad esempio viene trascritto un determinato gene e quindi l'informazione genetica viene espressa. Oppure, sempre sfruttando queste tecniche di ingegneria genetica, posso andare a vedere dove si localizza la proteina che viene sintetizzata a partire da quell'informazione genetica o ancora posso creare dei mutanti, quindi posso eliminare un determinato gene per capirne la funzione. vado ovviamente per differenza, tolgo un gene, vedo come la pianta si comporta e quindi cerco di capire qual era la funzione originale. Quindi ci sono molte applicazioni in campo scientifico. Però è evidente che l'interesse, se questo fosse l'applicazione delle piante geneticamente modificate, non ci sarebbe tutta questa attenzione nei loro confronti. Quindi è evidente che l'impiego di queste piante geneticamente modificate è stato particolarmente discusso e sono state intraprese tutta una serie di ricerche per la loro applicazione in agricoltura. Perché le piante GM in agricoltura? Chiaramente questo è il grafico che normalmente viene fatto vedere dove c'è una proiezione della domanda di cibo da parte di una popolazione che raggiungerà i 9 miliardi e mezzo nel 2050 dove quindi sarà necessario aumentare in qualche modo la produttività per riuscire almeno sui numeri, poi la statistica sappiamo che è sempre una questione delicata, ma almeno sui numeri riuscire ad avere una produttività agricola sufficiente a sfamare una popolazione in crescita continua. Quindi questo è uno degli obiettivi che si pone insieme a un'agricoltura classica anche l'uso di piante geneticamente modificate. Quindi le piante geneticamente modificate crescono da una parte per capire meglio gli organismi vegetali ma soprattutto per rispondere a delle esigenze umane. Certamente non nascono con l'intento di avvelenare il genere umano. Ora, oltre a un aumento della produttività agricola soprattutto in un ambiente che cambia sempre più rapidamente a causa dei cambiamenti climatici globali. Quindi noi abbiamo zone che erano zone fertili che stanno perdendo la fertilità, aumento della salinità, aumento della temperatura e via dicendo. Quindi noi abbiamo dei terreni agricoli che si stanno anche restringendo per una serie di problemi legati ai cambiamenti climatici e non solo. Quindi, oltre a questo discorso della produttività agricola c'è chiaramente cercare di ridurre i costi che sono costi per chi produce o per chi distribuisce e anche costi per l'ambiente. Perché, come vedremo, l'agricoltura tradizionale in realtà è un'agricoltura che ha un impatto sull'ambiente non indifferente dal punto di vista chimico soprattutto. Quindi uno degli obiettivi nell'utilizzo delle piante geneticamente modificate è proprio quello di ridurre, ad esempio, per il coltivatore il costo degli interventi chimici quindi come fertilizzanti, come fitofarmaci, pesticidi, quant'altro e quindi contemporaneamente salvaguardando anche meglio l'ambiente naturale e la nostra salute umana perché vi invito a guardare questo video sulle varietà di mele e lì c'è chiaramente un accento molto forte sull'uso esteso di fitofarmaci che viene fatto nei nostri meleti nelle zone dell'Italia nord-orientale e quindi dell'impatto sulla salute di questi composti. Quindi sono alcuni dei motivi per cui si è cercato di rispondere ad alcuni problemi dell'umanità attraverso una selezione di piante geneticamente modificate per caratteri che ovviamente fossero legati a questi obiettivi. La vi dicevo prima qualche dato proprio su come si fa una pianta transgenica e quando si parla di ingegneria genetica allora che cosa si intende? Tra l'altro adesso questo è un argomento credo tendenzialmente del quinto anno quindi gli studenti avranno immagino visto anche tutta la parte sul DNA ricombinante quindi queste sono cose che vi faccio vedere ma ovviamente gli studenti avranno già visto prima di affrontare forse questo tema. Quindi io per poter produrre del DNA ricombinante da poter inserire all'interno di un organismo ho bisogno prima di tutto di un sistema che mi crei molte copie del gene che mi interessa introdurre e ormai da decenni l'approccio di elezione è l'amplificazione PCR quindi l'utilizzo della reazione a catena della polimerasi per copiare e fare numerose copie del mio gene di interesse quindi copie dal DNA di partenza quindi è ovvio che questa è la tappa in cui ho bisogno di un po' di informazioni devo sapere che cosa voglio andare a introdurre devo averlo caratterizzato, sequenziato devo sapere come andarlo a selezionare attraverso questa tecnica PCR che è una tecnica molto potente quindi faccio tante copie del mio frammento di DNA che voglio inserire e poi ho bisogno ovviamente di un sistema taglia e cuci perché il mio vettore che userò per inserire questa informazione genetica nell'organismo bersaglio va aperto e all'interno andrà incollato il pezzo che mi interessa quindi ho bisogno di enzimi di restrizione fondamentalmente che mi consentono di creare dei tagli e poi di chiudere una volta che ho inserito il mio frammento richiudere il mio vettore recombinante quindi a questo punto il vettore è pronto per essere inserito all'interno dell'organismo bersaglio e ovviamente ci sono tantissimi vettori diversi a seconda del mio organismo bersaglio quindi si possono usare virus per esempio per la trasformazione di organismi animali normalmente mentre per la trasformazione delle piante si usa un plasmide che è derivato da un organismo strepitoso che è l'ingegnere genetico naturale presente da sempre in associazione con le piante che è Agrobacterium tumefacens quindi il target ripeto può essere diverso una volta che io ho il mio vettore ricombinante posso inserire questa informazione negli organismi più diversi ovviamente la natura del vettore farà sì che questo tratto di DNA venga letto correttamente all'interno dell'organismo bersaglio quindi saranno poi dei vettori diversi a seconda dell'organismo in cui voglio inserirlo e come vi dicevo per le piante c'è questo strumento potentissimo che è Agrobacterium di cui sicuramente che è un genere di batteri parassiti delle piante in cui troviamo diverse specie ma quella più utilizzata in assoluto è questa specie che si chiama Agrobacterium tumefacens ora non so probabilmente lo conoscerete perché questo è uno degli argomenti anche abbastanza trattati nelle lezioni ma per chi non avesse tanto presente il sistema lo ricordo brevemente diceva Agrobacterium è un ingegnere genetico naturale nel senso che costruisce un vettore e parte del DNA di questo vettore verrà inserito all'interno verrà iniettato proprio fisicamente nella cellula vegetale e andrà a integrarsi nel genoma della pianta del nucleo quindi e ripeto è una trasformazione genetica vera e propria che il batterio fa inserendo nella pianta un pezzo del proprio DNA qual è lo scopo diciamo perché Agrobacterium trasforma le piante allora Agrobacterium è un parassita delle piante quindi vive a spese della pianta ospite ma non è un patogeno in senso stretto nel senso che non entra e non colonizza i tessuti della pianta quindi non invade la pianta rimane in realtà all'esterno della pianta ma laddove ci sono delle ferite che si vengono a creare soprattutto nella zona di contatto tra diciamo il suolo e il fusto quindi nella zona cosiddetta del colletto Agrobacterium è in grado nelle zone soprattutto dove si creano delle ferite di avvicinarsi quindi c'è un fenomeno proprio di avvicinamento di chemiotassi alla pianta e poi è in grado di produrre un vero e proprio ago di iniezione che viene viene a perforare la membrana plasmatica della cellula vegetale e attraverso questo sistema di secrezione particolare viene trasmesso una frazione una parte precisa di questo plasmide presente all'interno della cellula di Agrobacterium che prende il nome di Tdna quindi questo pezzetto in azzurro viene copiato e poi viene trasferito all'interno della cellula vegetale attraverso questo sistema di iniezione e va a inserirsi all'interno del genoma si integra nel genoma quindi entra a far parte di un cromosoma della cellula vegetale ora all'interno di questo frammento di Tdna che viene inserito nel genoma delle piante ci sono una serie di informazioni tra cui delle informazioni genetiche per la produzione di ormoni ed è quello che induce la formazione di questo tumore quindi questa proliferazione di cellule che è il tumore indotto da Agrobacterium che sono cellule molto attive dal punto di vista metabolico quindi c'è una proliferazione cellulare e un'attivazione del metabolismo molto forte ma questo non è lo scopo di Agrobacterium lo scopo di Agrobacterium è quello di far produrre alla pianta dei composti particolari ricchi di azoto e di carbonio che si chiamano opine quindi su questo Tdna oltre all'informazione genetica per la sintesi di questi ormoni ci sono delle informazioni per la sintesi di questo opine le opine sono dei composti che la pianta non è in grado di utilizzare quindi li sintetizza ma poi non è in grado di sfruttarne il contenuto energetico e gli elementi nel senso che sono molecole che sono ricche di azoto l'azoto per le piante è un elemento essenziale preziosissimo però una volta sintetizzate la pianta dell'opine non sa cosa farsene e quindi che cosa succede queste molecole vengono rilasciate tra gli essudati radicali che sono composti organici che la pianta rilascia a livello del suolo e nel suolo c'è la popolazione di Agrobacterium Tumefacens che è lì che aspetta di ricevere questa manna dal cielo quindi questa popolazione è ovviamente a tutti gli enzimi necessari per l'utilizzo lo sfruttamento delle opine come fonte di carbonio come fonte di azoto come fonte di energia e quindi cresce grazie a questa attività della pianta che sintetizza opine e poi le rilascia quindi Agrobacterium Tumefacens è un parassita assolutamente perché riduce ovviamente lo stato energetico della pianta perché la pianta mette sia energia metabolica sia materiali di costruzione perché per sintetizzare questo opine ovviamente a partire da un'informazione genetica dovrà sintetizzare l'RNA messaggero e poi farlo leggere dai ribosomi e poi utilizzare aminoacidi per la sintesi degli enzimi che sono necessari per la sintesi di questo composto tutta energia che è a spesa delle piante emessa dalle piante quindi Agrobacterium semplicemente inietta e poi aspetta quindi in questo senso è un parassita molto abile ed è evidente che questa capacità di trasformare le piante non è sfuggita all'attenzione dei ricercatori e quindi è stata sfruttata a scopi biotecnologici per cui che cosa si può fare allora ovviamente è stato molto studiato questo plasmide tra l'altro non vi ho detto si chiama plasmide TI perché su questo plasmide ci sono tutte le informazioni per indurre il tumore quindi tumor inducing quindi questo è il significato del termine TI quindi è stato molto studiato questo plasmide TI è stato sequenziato sono stati visti tutti i geni necessari e cosa si è scoperto si è scoperto che in realtà per poter essere integrato nel cromosoma della pianta non c'è bisogno di tutto il pezzo di DNA che agrobatterio normalmente inietta può essere tranquillamente eliminata tutta la parte centrale quella dove ci sono le informazioni per la sintesi degli ormoni per la sintesi dell'opine che sono diciamo la parte legata proprio un po' al parassitismo basta tenere le due regioni fiancheggianti che sono delle piccole regioni che sono chiamate proprio il left border e il right border cioè le due sequenze fiancheggianti a questo tDNA per avere la integrazione nel cromosoma vegetale e quindi che cosa possiamo fare possiamo eliminare questa parte che causa la patologia e la sostituiamo con il gene che ci interessa andare ad inserire quindi questo può essere fatto ovviamente in laboratorio noi isoliamo da agrobatterio intumefacens questo plasmide T andiamo a eliminare la parte che non ci interessa in realtà ci sono già a livello commerciale dei plasmidi già in cui è stata eliminata tutta la parte legata ripeto alla patogenesi andiamo a inserire quindi dna ricombinante con PCR mi identifico il gene che mi interessa gli enzimi di restrizione vado a inserirli nel plasmide T pronti per essere poi ritrasformati inseriti in agrobatterium tutto questo lo faccio in una provetta reinserisco questo plasmide all'interno della cellula di agrobatterium lo metto a contatto con la pianta e gli lascio fare il resto con un'efficienza elevatissima quindi a questo punto una volta che io ho creato il dna ricombinante e l'ho inserito all'interno di agrobatterium con delle tecniche proprio molto di base di biologia molecolare ecco che sarà agrobatterium tumefacens a fare la trasformazione quindi messo a contatto con la pianta e potranno essere dei frammenti di tessuto presi dalle foglie presi dalle radici o quant'altro o cellule in coltura se voglio essere più diciamo partire da calli ad esempio quindi cellule staminali in coltura su queste cellule agrobatterium andrà a trasferire il dna che interessa come un trasferimento sempre del tdna io cosa devo fare poi per le tappe successive semplicemente andare a selezionare i cosiddetti trasformanti cioè quelle cellule che effettivamente sono state trasformate grazie all'inserimento del gene che ho inserito nel dna ricombinante ok quindi sono poi delle tappe di selezione e ricordo che la capacità incredibile delle piante di rigenerarsi fa sì che io posso partire da una piccola coltura di cellule trasformate e attraverso un processo di moltiplicazione vegetativa ottenere decine centinaia migliaia a seconda di piante che sono geneticamente modificate solo per dirvi l'efficienza di questo sistema e la facilità di utilizzo di questo sistema l'efficienza altissima dipende un po' dall'ospite vegetale che Aerobacterium ha davanti con alcuni ospiti è più efficiente con altri un pochino meno ma l'efficienza è veramente elevatissima ed è talmente facile la tecnica che noi utilizziamo ad esempio al terzo anno del corso di laurea triennale in scienze biologiche una delle esercitazioni che gli studenti possono fare è proprio quella di trasformare una pianta questa è una tecnica che è stata messa a punto un po' particolare su Arabidopsis che è il sistema modello delle piante quindi non ha un interesse poi in agricoltura ma su questa pianta sono stati messi a punto un po' tutte le tappe addirittura si può usare questa tecnica che viene chiamata di floral dip nel senso che si prende la pianta in fioritura si puccia direttamente quindi si inserisce la parte con i fiori all'interno della sospensione con Agrobacterium quindi Agrobacterium andrà a inserire direttamente nelle cellule che daranno poi origine all'embrione all'interno dei semi quindi si prendono dei semi che sono già praticamente trasformati quindi una tecnica ripeto rapida e molto molto semplice di trasformazione genetica quindi vedete che quando c'è un sistema così efficace di trasformazione è tutto più semplice ad esempio gli organismi geneticamente modificati di tipo animale a parte una serie di problemi ovviamente di tipo etico più importanti ma hanno anche posto una serie di difficoltà proprio di tipo metodologico rispetto a uno strumento di questo genere ovvio la trasformazione organismi animali è anche più complessa questo assolutamente sì perché io ho creato un DNA ricombinante quindi un vettore poi che sia io direttamente come operatore o che sia Agrobatterium che trasforma comunque è considerato un organismo geneticamente modificato perché è modificato da DNA ricombinante che era presente su un vettore no nel senso che viene comunemente usata in laboratorio per studi di biologia di base però le piante possono essere ottenute il discorso è che non possono essere coltivate questa è la allora così fatta quindi questa introduzione un po' sulla tecnica quello che volevo fare e che secondo me è sempre utile ricordare agli studenti e che bisogna un po' contestualizzare il discorso delle piante geneticamente modificate in un discorso più generale di quello che è la storia dell'agricoltura perché il concetto di cambiamento nell'informazione genetica degli organismi deve essere un concetto chiaramente legato alla evoluzione alla selezione degli organismi utilizzati appunto nell'agricoltura non certamente solo legato alle piante GM e quindi mi sembra che sia sempre utile ricordare che il nostro sviluppo è stato legato sicuramente allo sviluppo dell'agricoltura in cui c'è stato un processo di domesticazione continuo quindi una continua selezione di organismi con delle caratteristiche sempre più vicino a delle caratteristiche utili per l'uomo in agricoltura quindi di fatto noi abbiamo operato nell'agricoltura ma come anche nell'allivamento animale una selezione una selezione quindi una modificazione a livello genetico con quello che viene chiamato tra virgolette il miglioramento genetico che ancora si usa oggi comunemente al di là di quello che è poi il discorso delle piante geneticamente modificate e si basa su che cosa sul fatto che c'è una variabilità naturale per quanto riguarda i tratti fenotipici quindi se noi andiamo a guardare una determinata specie e guardiamo gli individui all'interno di questa specie troveremo individui che hanno una certa variabilità come dimensioni come produttività ad esempio se siamo interessati alla produzione di semi c'è chi produrrà di più chi di meno quindi che cosa ha fatto l'uomo fondamentalmente applicando il buonsenso e l'osservazione ha tenuto ad esempio per le semine successive ha tenuto da parte semi da quelle piante che producevano meglio e di più o che avevano una fioritura più precoce quindi magari riuscivano a fare più coltivazioni nello stesso anno quindi con questo processo lento di selezione continuo su generazioni successive e per quelle che sono state migliaia e migliaia di anni ecco che l'aspetto delle piante è sicuramente andato cambiando e così la loro informazione genetica per cui noi di fatto dalla nascita proprio dell'uomo coltivatore abbiamo una manipolazione genetica delle delle nostre coltivazioni delle nostre specie coltivate con una selezione che è nei principi simili alla selezione naturale ma che chiaramente è una selezione artificiale perché siamo noi che determiniamo quali organismi sopravvivono e quali no nel senso che sopravviveranno quelli che abbiamo selezionato noi e quindi noi possiamo immaginare appunto negli anni di andare ad arricchire per determinati caratteri una certa una certa pianta e per cui per esempio qua c'è una tra l'altro c'è questo un bel sito dove ci sono molti materiali forse più di livello universitario ma che trattano argomenti così a livello abbastanza generale questo è solo un esempio per dirvi come poi alla fine opera una selezione artificiale per esempio che è molto diversa da una selezione naturale ad esempio in natura sicuramente può essere favorita una specie che rilascia facilmente i semi perché questo vuol dire maggiore dispersione maggiore capacità di diffondersi nell'ambiente di colonizzare l'ambiente e quindi sicuramente in una specie selvatica si affermerà un carattere legato al rilascio dei semi ora questo ovviamente è invece assolutamente contrario a quello che può essere diciamo lo stesso carattere in agricoltura in agricoltura noi vogliamo poter raccogliere i semi non perderli nel terreno e quindi andremo ad esempio a selezionare quelli individui in cui i semi tendono a rimanere attaccati allo stelo e quindi operiamo una selezione artificiale su questa pianta ok quindi ripeto l'uomo da sempre applica questi principi proprio per selezionare dei caratteri di interesse per le piante ad uso agricolo portando a quella che viene anche chiamata sia per le piante in realtà sia per gli animali la sindrome da domesticazione se noi prendiamo organismi adattati all'ambiente agricolo e li portiamo in un ambiente naturale probabilmente questi non sopravviveranno tanto bene proprio perché sono stati selezionati per dare il meglio in un ambiente agricolo dove sono mantenuti con un certo regime dove non devono competere con altre specie e dove è l'uomo che le risemina e via dicendo quindi solo da avere in mente che quello che noi otteniamo durante un processo di questo tipo non è certamente la pianta più adattata a vivere in un ambiente naturale come pensate ad esempio cani pensate la stessa cosa cioè forse un cagnolino abituato ad un ambiente domestico non so esattamente come se la caverebbe in mezzo ai lupi ok quindi diciamo il concetto importante quindi è proprio questo è che noi da sempre modifichiamo geneticamente l'assetto delle specie o avviene ovviamente sfruttando quella che è la variabilità naturale e andando semplicemente a selezionare noi quali sono i caratteri che ci interessano anziché la selezione naturale e quindi di conseguenza se noi andiamo a confrontare quella che è considerato il progenitore del moderno mais che è il teosinte vediamo che questa è la pianta non geneticamente modificata secondo i criteri diciamo del miglioramento genetico applicato da sempre dall'uomo questa è totalmente diversa come dimensioni guardate della pannocchia come ramificazioni come aspetto della pianta quindi quello che è l'attuale mais ha poco a che fare con quello che è stato diciamo un po' il progenitore grazie a questo lento processo di selezione da parte dell'uomo ora dove è un po' nato il problema che ha portato poi a quella che viene chiamata la rivoluzione verde e poi ancora seguire l'idea di sfruttare anche l'ingegneria genetica per risolvere un po' il problema il problema è stato che c'è stato un forte cambiamento proprio nell'assetto umano per cui abbiamo una tecnologia che ha portato a un miglioramento delle condizioni sicuramente di salute aumentato la vita media aumentato quindi la popolazione in generale un aumento della popolazione mondiale che deve essere seguita accompagnata da un aumento della produzione agricola perché comunque da lì arriva direttamente o indirettamente tutto quanto noi consumiamo per mantenerci in vita e quindi c'è stato un primo diciamo periodo dagli anni 50 60 70 ancora c'è stato un primo periodo in cui all'aumento di popolazione è corrisposto grazie a quello che vi faccio vedere nella prossima diapositiva un aumento nella produzione agricola più che non dell'area agricola nel senso che grazie a quella che va sotto il nome di rivoluzione verde anzi prima rivoluzione verde si è arrivati a un aumento sostanziale della produttività agricola senza dover aumentare eccessivamente l'area coltivata che è una cosa importante soprattutto al giorno d'oggi qualcosa di cui ci dobbiamo preoccupare perché l'area coltivabile non sta aumentando sta diminuendo a meno che noi andiamo a deforestare zone naturali ambienti naturali e quindi ripeto questo viene dopo la guerra periodo sicuramente difficile in cui si è rivoluzionato proprio l'approccio all'agricoltura con la selezione di piante di cultivar ad alta produttività quindi si è proprio cercato anche con quei mezzi che vi ho descritto prima cioè anche ricorrendo a sistemi di mutagenesi un po' pesanti grazie ai raggiamenti con raggi X o con sostanze chimiche per avere delle piante ad alta resa ovviamente non ad alta resa gratuitamente ma ad alta resa a fronte di un pesante impiego di fertilizzanti chimici quindi si è andato selezionando e la persona in questione che questo ricercatore americano ha avuto il premio Nobel per la pace perché perché il problema grosso al tempo era veramente sfamare una popolazione in rapido aumento e in condizioni diciamo difficili quindi allora questo era il problema al tempo quindi è stato risolto ed è stato risolto almeno parzialmente è stato risolto puntando sulla massima resa delle piante a fronte di un impatto pesante dal punto di vista di acqua fertilizzanti meccanizzazione agricola quindi quella che noi chiamiamo oggi l'agricoltura tradizionale fondamentalmente che è un'agricoltura intensiva ok e quindi anche un capovolgimento del tipo di agricoltura passando dal piccolo coltivatore a delle grossi coltivatori quindi ampie aree coltivate con dei mezzi pesanti in grado di lavorare velocemente il terreno e fare trattamenti e via dicendo ok quindi c'è stato sicuramente un un innalzamento sostanziale della produzione agricola in questo periodo quella che appunto va sotto il nome di rivoluzione verde con una selezione basata su tecniche tradizionali di incroci e miglioramento genetico però sfruttando ripeto anche mezzi abbastanza violenti per creare delle nuove varietà attraverso mutazioni e oggettivamente questo è un dato della FAO oggettivamente c'è stata grazie a questo tipo di approccio quindi una agricoltura intensiva c'è stato una riduzione del problema di alimentazione a livello mondiale ma con dei costi molto pesanti sull'ambiente e quindi degrado del suolo per l'utilizzo di sostanze chimiche che quindi portano ad esempio a autrofizzazione dell'ambiente se poi vengono dilavate l'uso di macchine agricole molto pesanti su queste aree molto ampie monoculture porta ovviamente a un compattamento del suolo e negli Stati Uniti dove ci sono questi enormi appezzamenti questo è stato un grosso problema è un grosso problema quindi compattare il suolo vuol dire non farlo respirare e nel suolo c'è una flora che ha bisogno di ossigeno e non solo le radici delle piante uno sfruttamento delle risorse idriche e oggi come oggi l'acqua sappiamo che è un bene prezioso e come dicevo anche una perdita della biodiversità perché si è puntato su delle monoculture e ancora oggi vediamo che l'agricoltura è molto basata sulle monoculture con un inquinamento per l'uso di queste sostanze chimiche al di là dei fertilizzanti molti pesticidi erbicidi e quant'altro riesce a mantenere pulito da infestanti da parassiti un campo per consentire una produzione elevata e combustibili per tutte queste macchine agricole che devono essere utilizzate quindi c'è una cambiamento almeno c'è una sfida e quindi in parte c'è già un cambiamento nell'approccio futuro in agricoltura cioè la sfida di oggi è proprio quella di diminuire l'impatto sull'ambiente sicuramente di mantenere e difendere la biodiversità per dei motivi diciamo che vi sottolineerò anche proprio soltanto di tipo utilitaristico senza aumentare le aree da coltivare perché questo vuol dire di sboscare fondamentalmente ma mantenendo una produzione elevata perché non si può non avere come obiettivo il mantenimento o addirittura l'aumento della produttività a fronte di una popolazione che come vi facevo vedere prima continua ad aumentare quindi noi non possiamo andare su delle forme di agricoltura meno produttive semplicemente perché è vero che ci sono problemi poi di distribuzione il problema non è solo la produzione però è chiaro che comunque al netto bisogna anche averle poi le risorse non soltanto essere in grado di distribuirle meglio e quindi da lì il discorso legato al miglioramento genetico delle piante allora questo in realtà non è necessariamente legato alle piante OGM queste sono un po' le tematiche che sono affrontate oggi come oggi quindi se uno pensa quali sono i caratteri che bisogna proprio un po' cercare di sviluppare nella selezione delle nuove varietà allora sicuramente l'aumento della produttività può passare con una riduzione dell'uso di pesticidi e erbicidi e via dicendo può passare attraverso ad esempio l'aumento nelle piante coltivate della resistenza all'attacco da parte di patogeni nel senso che se io ho un attacco da parte di funghi oggi come oggi posso usare tutto un set di sostanze chimiche anche nell'agricoltura biologica io devo fare attenzione agli attacchi da parte di patogeni fungini cosa faccio poltiglia bordolese per esempio che è rame quindi rame si accumula nell'ambiente un metallo pesante quindi con tutta una serie di effetti diciamo di tossicità gli insetti chi di voi ha dei gerani sul balcone sa benissimo cosa vuol dire un attacco da parte di un insetto e allora è evidente che o utilizzo sostanze chimiche o come vi farò vedere posso sfruttare delle interazioni che ci sono a livello naturale per combattere alcuni insetti senza bisogno di usare direttamente dei pesticidi e poi c'è il discorso degli erbicidi che è un discorso complesso adesso io non l'avevo previsto ma se poi vi interessa sapere qualcosa di più possiamo approfondire quindi da una parte può essere un obiettivo quello che ripeto di ridurre la perdita agricola dovuta a vari patogeni vari parassiti vari predatori delle piante oppure soprattutto a fronte come vi dicevo di un ambiente agricolo che in molte zone sta proprio peggiorando di qualità perché c'è un aumento della salinità del suolo aumenti di temperatura riduzione della quantità di acqua quindi aumento dello stress idrico e via dicendo la possibilità di selezionare delle piante che abbiano ad esempio una maggiore tolleranza allo stress idrico in modo da poter avere una produttività comunque elevata anche in zone che oggi come oggi producono poco per questi motivi ok poi ancora c'è un aspetto che diciamo non riguarda direttamente la produzione agricola ma che comunque è importante perché bisogna sempre anche tenere presente quella che è la salute dell'uomo e noi possiamo diciamo avere e ottenere dalle piante moltissime sostanze a noi indispensabili come ad esempio molte vitamine ferro quant'altro quindi c'è anche tutto un ramo dell'agricoltura che si preoccupa anche di selezionare dei caratteri che portino degli alimenti di migliore qualità nutrizionale e anche qui vi farò poi un esempio allora strumenti che sono a disposizione oggi come oggi per migliorare geneticamente le varietà coltivate allora quello che vedete qua questo è il miglioramento genetico tradizionale quello che da sempre l'uomo applica sulle piante quindi quello che già diecimila anni fa quindi io osservo delle piante che hanno dei caratteri che mi interessano e vedo di fare degli incroci per riuscire a mettere insieme queste qualità e avere una progene in cui selezionare questi tratti quindi man mano miglioro tra virgolette le caratteristiche della mia varietà coltivata col tratto che mi interessa ovviamente migliorare e poi ci sono ovviamente le tecniche invece gli approcci che si basano su una manipolazione di tipo genetico quindi tecniche di ingegneria genetica che sono quelle che abbiamo visto quindi quello che volevo fare adesso è mettere proprio a confronto questi diversi approcci per far capire come nella sostanza noi di fatto abbiamo lo stesso obiettivo ma possiamo arrivarci in alcuni casi semplicemente attraverso degli approcci diversi poi è evidente che con la trasformazione mediante con l'uso di ingegneria genetica io posso anche ottenere delle cose che non posso ottenere attraverso le tecniche di breeding convenzionali però su queste c'è poi da fare anche dei distinguo allora il miglioramento genetico classico quello che si utilizza da sempre qui c'è il caso ad esempio c'è un caso particolare legato al pomodoro pomodoro sappiamo che è pianta importante dal punto di vista proprio della produzione soprattutto in Italia è anche molto soggetta ad attacchi da parte di virus da parte di funghi da parte di varie malattie e quindi io posso avere delle varietà selezionate per i tratti le caratteristiche organolettiche del frutto ad esempio oppure la facilità di coltivazione diciamo la forma l'alta produttività quindi posso avere tutta una serie di caratteristiche desiderate proprio desiderabili in una varietà coltivata che chiamerò Elite quindi Elite semplicemente vuol dire questo è il pomodoro che io vendo sul mercato perché ha un mercato quindi che potrà essere il adesso il San Marzano purtroppo non esiste più ma che potrà essere una qualsiasi varietà il pomodoro aggrappolo del pendio del Vesuvio per esempio piuttosto che altro però questa pianta è soggetta a malattie allora che cosa devo fare per proteggere la pianta dalle malattie allora ovviamente vado pesante di pesticidi ma vorrei evitarlo quindi cerco magari in varietà meno interessanti dal punto di vista commerciale o addirittura le piante selvatiche che in genere sono molto equipaggiate per resistere a malattie e a stress ambientali vado a cercare in una piante qualche organismo che sia in grado di resistere a quella malattia attraverso l'espressione di una proteina di un enzima di quant'altro che lo renda resistente quindi un carattere genetico che conferisce a questa pianta la resistenza alla malattia in questione allora una volta che io ho identificato la pianta resistente e questo ovviamente necessita di un lavoro di ricerca nelle varietà nelle piante selvatiche che possono poi dare origine a una fecondazione e quindi a una compatibilità con la mia varietà elite che cosa faccio? io semplicemente incrocio queste due quindi vado a impollinare i fiori della mia varietà elite col polline della mia varietà resistente che cosa ottengo? ovviamente Mendel quindi ottengo un F1 in cui avrò una miscela dei caratteri parentali quindi otterrò delle piante una diversa dall'altra alcune delle quali porteranno il carattere per la resistenza allora dov'è il punto importante? allora chiaramente questa è diciamo una tecnica molto accettata perché è la tecnica che viene usata da sempre ovviamente è molto casuale poi il fatto di andare a ritrovare il gene di resistenza nella progene io poi devo andarlo proprio a cercare e soprattutto quello che succede è che io ho mescolato i genomi quello che succede nella ricombinazione genica legata alla riproduzione sessuale e ben venga questo è il significato della riproduzione sessuale creare nuove varietà nuovi assortimenti di geni quindi io fondamentalmente ottengo questo quindi ho la mia varietà diciamo che questa sia l'elite questa è l'altra qui in mezzo c'è quel gene di resistenza ma io di fatto incrocio e quindi ottengo nella mia progene una miscela di carattere dell'uno e dell'altro cosa succede? io ho perso la mia varietà elite non c'è più perché a questo punto avrò delle piante che hanno delle caratteristiche intermedie poi a seconda di che cosa hanno ereditato con dei caratteri molto diversi le une dalle altre ok? quindi io col miglioramento genetico tradizionale questo è un punto che bisogna anche tenere in prosa un po' a mente io perdo le varietà quindi quando noi andiamo addirittura alla varietà particolare che ha quelle caratteristiche eccetera ovvio che al momento in cui entra in un programma di questo genere si perde la varietà io la posso recuperare ma con un processo molto lungo di reincrocio quello che viene chiamata appunto in particolare introgressione tramite reincrocio quindi che cosa faccio? dopo questa prima incrocio per diciamo portare il gene di resistenza all'interno di questa progenie con la pianta elite io vado a reincrociare le mie piante F1 con la varietà elite e cerco di selezionare man mano quindi poi sarà l'F2 l'F3 man mano così via dicendo io andrò a selezionare quelle piante che hanno mantenuto il gene di resistenza ma dove man mano il genoma è sempre più simile alla mia varietà elite ok? quindi attraverso reincrocio io cerco di tenere il carattere che mi interessava introdurre ma eliminare tutto quello che non voglio tornando quindi alla mia cultiva la mia varietà di partenza cosa che capite è molto lungo perché devo fare tantissimi cicli di reincrocio ed è molto lento e poi difficilmente io riuscirò a ritornare veramente a una situazione di questo genere questo è in teoria ma poi in pratica io avrò delle situazioni sempre di questo genere in cui avrò dei caratteri comunque che mi rimangono da questa pianta che ho utilizzato ok? quindi ci sono dei tempi molto lunghi e questo chiaramente è un problema nel senso che la la produzione di nuove varietà ad esempio resistenti a determinati stress ambientali salinità eccetera minimo dieci anni per avere di nuovo una pianta che possa essere commerciabile e tra l'altro poi c'è la difficoltà ma questa è la difficoltà comunque di base e che io devo trovare nella diversità naturale per esempio il tratto che voglio inserire cioè quella resistenza ad esempio al patogeno che ho inserito nella mia varietà è lì da qualche parte deve venire quindi quando dico perché è anche importante mantenere la biodiversità difendere la biodiversità allora la biodiversità ha un valore intrinseco va difesa a prescindere ma c'è anche un aspetto se vogliamo utilitaristico che è quello che lì in mezzo ci sono sicuramente geni che ci interessano perché possono conferire alle piante che usiamo in agricoltura dei caratteri che oggi magari non vediamo ma domani potrebbero essere fondamentali di resistenza magari a qualche particolare malattia o quant'altro quindi io posso andare a cercare i tratti che mi interessa introdurre in una varietà attraverso uno studio della diversità naturale oppure come vi dicevo attraverso questi come è stato fatto attraverso dei mezzi un po' più brutali di mutagenesi chimica o attraverso radiazioni ionizzanti proprio per mutare geni e vedere se qualche cosa viene fuori da lì ok come si distingue l'ingegneria genetica dal diciamo dagli incroci dalla genetica dal miglioramento genetico tradizionale allora la base è che noi dobbiamo identificare il tratto che ci interessa quindi anche per l'ingegneria genetica noi dobbiamo trovare quel tratto di cui abbiamo bisogno o che vogliamo inserire in una pianta quindi il discorso della diversità e del poter attingere a una variabilità genetica naturale rimane anche ovviamente per l'ingegneria genetica una volta che però noi abbiamo identificato la pianta resistente quello che facciamo è di andare a trovare e questa è la parte più lunga che ha bisogno di scienziati di ricercatori che vadano a studiare il genoma e i caratteri delle piante quindi io devo andare proprio a identificare dov'è nel genoma quell'informazione genetica che mi interessa e devo riuscire quindi a amplificarla attraverso le tecniche di PCR quindi io devo poterne fare delle copie da poter usare poi per costruire del DNA ricombinante ok quindi io di questa pianta donatrice del mio carattere in realtà uso soltanto l'informazione genetica non mi interessa la pianta nel suo complesso uso solo informazione genetica quel gene che mi conferisce la resistenza o quei geni se si tratta di più di un gene e che cosa faccio? attraverso non incrocio ma tecniche di ingegneria genetica attraverso agrobacterium tumefacens per esempio vado a inserire quel carattere nel genoma della pianta elite ok quindi è chiaro che se noi lo guardiamo così sullo schema otteniamo immediatamente in un colpo solo otteniamo una pianta che ha tutte le caratteristiche della pianta elite e che ha ricevuto soltanto quell'informazione genetica che l'ha resa resistente alla malattia quindi sicuramente è molto veloce quindi è come noi partiamo di qua questa è la nostra varietà elite andiamo a prendere l'informazione dal manuale che è la nostra informazione genetica della pianta resistente andiamo a copiare questa pagina e l'andiamo a inserire in tutto il resto quindi noi abbiamo mantenuto la varietà fondamentalmente il problema che cos'è? che è ovviamente preciso veloce tutto quanto ma è meno accettato perché c'è questa manipolazione quindi questo uso dell'ingegneria genetica che ha proprio dei forti limiti diciamo per quanto ho avuto dei forti limiti per quanto riguarda l'accettazione da parte del pubblico anche se di fatto io potrei ottenere lo stesso risultato in questo caso semplicemente con un incrocio e poi facendo tutto il reincrocio per tempi lunghi c'è una differenza importante su cui torno poi più avanti che è il fatto che io qui non inserisco solo ed esclusivamente almeno nelle tecniche più tradizionali di ingegneria genetica ormai si parla di tecniche tradizionali di ingegneria genetica quindi ci sono le tecniche nuove le tecniche tradizionali di ingegneria genetica io inserisco in realtà anche quelli che vengono chiamati marcatori di selezione che sono dei geni che mi servono a selezionare le piante che sono state effettivamente trasformate da agrobacterium durante la mia procedura diciamo di ottenimento della pianta trasformata e quello effettivamente è stato oggetto di preoccupazione su quello torno perché quello può essere un rischio reale i geni di selezione marcatori di selezione in genere sono dei geni che conferiscono la resistenza degli antibiotici e quindi è chiaro che quello ha subito sollevato una serie di domande dal punto di vista proprio della salute umana ma su quello torniamo quindi questo è quello che vi dicevo allora di nuovo questo è l'ottenimento diciamo di nuove varietà attraverso ingegneria genetica quindi distinguerei soltanto quella che viene chiamata che vengono chiamate le piante cisgeniche dove noi di fatto a parte i geni marcatori di selezione otteniamo lo stesso risultato che otterremo di qua più pulito più veloce quindi semplicemente prendiamo un gene da una pianta che sarebbe sessualmente compatibile con cui noi potremmo fare anche un incrocio semplicemente andiamo più veloci vogliamo ottenere subito la nostra pianta con le nuove caratteristiche e quindi otteniamo lo stesso che otterremo da questa parte più o meno più pulita più veloce cosa diversa sono le piante realmente transgeniche in cui posso utilizzare dei caratteri che vengono da specie che non sono sessualmente compatibili con la mia varietà elite per esempio quindi io di fatto posso prendere un gene che può essere avere come origine un batterio un fungo una pianta molto lontana dalla mia pianta ricevente e quindi qui è stata ovviamente sollevata tutta una grossa polemica con quei manifesti non so se l'avete mai visti in cui c'è la banana pesce piuttosto che non quindi con una ovviamente preoccupazione sull'origine io dico sempre un biologo sa che l'informazione genetica è universale quindi la proteina è la proteina che venga da un organismo piuttosto che da un altro però chiaramente ripeto soprattutto un pubblico che non ha questa forte base biologica lì ha visto il mostro Frankenstein e quant'altro e poi quindi questo per le tecniche diciamo di ingegneria genetica classiche e poi c'è questa nuova tecnica che sta assolutamente prendendo piede andrà a soppiantare completamente le altre tecniche quasi sicuramente che è questa tecnica del genome editing allora genome editing come dice il nome in realtà non è una vera e propria trasformazione genetica nel senso che non si ottengono organismi transgenici perché non viene utilizzato un DNA ricombinante un vettore ricombinante che poi permane all'interno della cellula si può fare però si può evitare quindi io posso semplicemente andare a inserire degli enzimi che lavorano sul DNA e ne modificano la sequenza quindi senza lasciare traccia ora se vi interessa diciamo approfondire un po' ci sono tantissimi video sull'argomento quindi questo ad esempio ve lo lascio poi sulla diapositiva questo è un video dove vi fa vedere come funziona questo sistema per cui c'è una nucleasi che taglia in un punto specifico che è definito da una sequenza che io inserisco che in pratica porta questo enzima che taglia il DNA direttamente al sito target quindi non è casuale ma vado proprio a colpire il gene che mi interessa e poi posso modificarlo a piacere quindi posso eliminare dei pezzi possono aggiungere posso modificare la sequenza quindi operando in un modo che non è tanto diverso da come opera tutto sommato la comparsa delle mutazioni in natura ma lo faccio io in modo mirato e quindi di fatto è una manipolazione genetica ok quindi sicuramente sentirete e sentiremo ancora molto parlare di questa tecnica che ripeto è stata oggetto di contenzioso nel senso che ovviamente si è detto ma questa non è una tecnica di ingegneria genetica in senso tradizionale perché non uso del DNA ricombinante è un vettore però d'altra parte sono in grado di modificare le piante quindi come dico in Italia si è andati per una credo in tutta Europa per una soluzione di massima rigore quindi sono comunque piante geneticamente modificate in altri paesi invece viene data l'equivalenza con una varietà ottenuta diciamo naturalmente anche perché io poi non le posso andare a identificare delle piante ottenute in questo modo come le identifico normalmente una pianta geneticamente modificata attraverso ingegneria genetica classica mantiene al suo interno pezzi del vettore quindi io posso andare alla diagnostica che si fa sulle piante OGM è proprio quella di andare a cercare se ci sono quelle sequenze di DNA dei vettori quelli sono molto standard quindi si possono andare a ritrovare se io faccio solo un editing e poi non lascio niente come le identifico delle piante ottenute in questo modo potrebbe essere stata semplicemente una mutagenesi casuale e una comparsa di geni nuovi o caratteri nuovi dovuta a una variabilità genetica naturale quindi non è semplice l'argomento sicuramente comunque sia e le piante OGM come vedete questo è un dato aggiornato del 2018 sono una realtà in agricoltura ripeto in Europa come vedete c'è questa moratoria nella coltivazione quindi noi le possiamo importare ma non le possiamo coltivare tranne alcune zone sperimentali ma sono cose tutto sommato abbastanza limitate vedete in Spagna e Portogallo quelli che sono i grossi coltivatori di piante OGM sono sicuramente il continente americano sia nord che sud quindi Stati Uniti Canada e poi Sud America il Brasile l'Argentina sono tutti grandi produttori e stanno emergendo sempre di più come importanza anche paesi dell'est come la Cina e l'India addirittura l'India leggevo qualche mese fa che ha superato come produzione di cotone transgenico che è quello di cui vi parlo adesso ha superato gli Stati Uniti grazie alla riduzione dei costi di produzione quindi diciamo che è una realtà di cui non si può non prendere atto diciamo io quello che vi volevo fare poi se ci sono ripeto domande e cose interrompetemi assolutamente io quello che volevo fare perché l'elenco di possibili applicazioni è abbastanza lungo quindi io pensavo di concentrarmi su una storia che è la storia delle piante BT da Bacillus Thuringiensis che sono piante resistenti all'attacco da parte delle larve di insetti fitofagi quindi hanno diciamo sono state utilizzate dagli anni 90 sono state le prime piante che sono state portate in campo nel continente nordamericano allora si parte sempre in genere da un'osservazione di qualche evento naturale perché noi come umani non è che inventiamo grandi cose le biotecnologie sono sempre in primis bio quindi in genere si va a studiare come funzionano gli organismi come interagiscono gli organismi Agrobacterium Tumefacens ne uso esempio e poi se riusciamo a sfruttare qualcosa di queste interazioni allora per quanto riguarda le cosiddette piante BT la storia nasce all'inizio del 900 perché in un allevamento di bacchi da seta in Cina c'era stata una moria di bacchi da seta ora i bacchi da seta vi ricordo anche da noi venivano allevati e vengono nutriti con le foglie del gelso ora evidentemente su queste foglie del gelso c'era qualche cosa che aveva causato questa moria quindi le foglie sono state analizzate si è cercato di capire dove fosse il problema si è scoperto che la gente della moria di questi bacchi era un batterio che è un batterio abbastanza comune nell'ambiente si trova in tante nicchie ecologiche comprese le foglie questo batterio si chiama bacillus turingensis ora è un batterio un po' particolare questo è un ingrandimento vedete che è un batterio endosporico una forma bacillo è endosporico perché all'interno della cellula si producono delle spore quindi quando il batterio muore rimangono queste spore sono molto resistenti quindi in questa forma può anche resistere in ambienti abbastanza diciamo difficili l'altra cosa che si forma all'interno del citoplasma di questi batteri bacillus turingensis sono dei cristalli che sono dei cristalli di natura proteica questo è come noi lo vediamo all'interno della cellula questo è come noi lo vediamo diciamo una volta che la cellula muore o se noi rompiamo le cellule liberiamo questo cristallo proteico ora questo cristallo è in pratica la forma cristallizzata di proteine che sono tossiche per i bacchi da seta ok quindi sono di fatto gli agenti poi della moria che cosa succede che quando una larva arriva sulla foglia e inizia a mangiarla e sappiamo quanto possono essere defoliatori le larve degli insetti fitofagi andrà a ingerire un po' tutto quello che c'è sopra la foglia compreso cellule di bacillus turingensis le spore cristalli che si siano liberati tutto insieme impacchettato quindi andrà a ingerire un po' di tutto e questo comincerà a percorrere il tratto digerente dove noi abbiamo dei valori tipicamente alcalini di pH a differenza del nostro sistema digerente il sistema digerente degli insetti ha questa caratteristica di pH tendenzialmente alcalino l'ambiente alcalino che cosa fa? disgrega quel cristallo liberando le singole proteine che sono di fatto delle protossine cioè sono delle proteine che non sono ancora attive come tossine devono essere tagliate da una proteasi che noi troviamo nel tratto digerente di questi insetti perché le proteasi servono a tante cose servono a digerire le proteine che cosa succede? quindi la protossina libera questa tossina che va a inserirsi nella membrana delle cellule che foderano che circondano il tratto digerente e lì crea dei fori fondamentalmente quindi crea dei punti di passaggio con una lisi di fatto delle cellule quindi abbiamo uno scompenso degli elettroliti una fuoriuscita di materiale cellulare quindi chiaramente questi insetti non sono più in grado di nutrirsi perché di fatto non riescono ad assorbire gli elementi che passano nel tratto digerente proprio perché c'è questa distruzione delle cellule che sarebbero responsabili dell'assorbimento e quindi che cosa succede? L'insetto non cresce non si nutre non cresce anzi c'è poi tanto materiale in degradazione all'interno del tratto digerente e quindi quello che si osserve è spesso anche una setticemia perché i batteri o le spore che sono state ingerite a questo punto trovano un pabulum per crescere e per moltiplicarsi e quindi di fatto la larva se non muore ma comunque non cresce ora dovete sapere se già non lo sapete che il bacillo sturingensis è uno dei pochissimi trattamenti che possono essere fatti nell'agricoltura biologica e quindi vengono vendute delle sospensioni batteriche che possono essere spruzzate sulle foglie ci sono dei vantaggi e degli svantaggi nell'utilizzo di questi preparati allora sicuramente il vantaggio è che questa proteina è rapidamente degradata quando è esposta agli raggi B quindi quando è esposta al sole e pertanto sono dei trattamenti che hanno una durata limitata nel tempo questo però è anche uno svantaggio perché vuol dire tanti trattamenti per mantenere una protezione della pianta diciamo il vantaggio ovviamente è che è approvata nell'agricoltura biologica uno svantaggio è che deve coprire bene la foglia perché tutto quello che non è coperto non diciamo non viene protetto quindi ne serve tanto e deve essere ben utilizzato soprattutto vedete qui piante ad alto fusto diventa anche difficile riuscire a coprire tutta la chioma quindi diciamo che è un prodotto che ovviamente non è rischioso di per sé tant'è che è accettato come antiparassitario proprio nella è uno dei pochi trattamenti che possono essere fatti in agricoltura biologica dove però io vado a spruzzare tutto il batterio ok dopodiché mangio quello che rimane se mangio la foglia di tutto il batterio quindi questa era la diciamo informazione che veniva dall'interazione tra bacillus thuringiensis e le larve del baco da seta è evidente che da lì è nata subito l'idea hanno detto se noi anziché andare a spruzzare il batterio andiamo a identificare il gene che codifica per questa proteina e la inseriamo direttamente nella pianta ecco che la pianta sarà a questo punto in grado di difendersi da sola e tra l'altro uno dei vantaggi è che verranno colpiti nel senso che verranno danneggiati da questa proteina BT soltanto quegli insetti che sono effettivamente dannosi per le colture cioè solo quegli insetti che veramente vanno a mangiare e si nutrono delle foglie non per esempio l'ape che viaggia e che semplicemente sorvola o si appoggia sulla foglia sui fiori quindi adesso ripeto rispetto a un trattamento non parlo dell'agricoltura biologica ma rispetto a un trattamento di un'agricoltura tradizionale dove io vado a spruzzare non bacilli o sturengensi ma vado a spruzzare pesticidi vari e chi prendo prendo ovviamente non sto a distinguere insetti utili o insetti nocivi alle mie coltivazioni questo è interessante perché va a colpire soltanto quegli insetti che veramente attaccano le piante e vanno a defogliarle attraverso un attacco delle foglie ok quindi c'erano tanti aspetti positivi della come diciamo dal punto di vista teorico e infatti le piante BT sono state ottenute e già messe in campo nel 1996-97 quella è la prima applicazione che è stata fatta portando a una rapido poi aumento nel suo utilizzo perché? perché chiaramente i coltivatori hanno visto un abbattimento dei costi per i trattamenti con insetticidi a fronte di una resa elevata elevata ok uno dei motivi per cui tra l'altro questa è stata anche la prima pianta che è stata provata in campo e che non si tratta di una pianta scusate il primo esperimento è stato fatto sul cotone che non è una pianta a uso alimentare quindi è chiaro che essendo le prime comunque erano in corso anche una serie di verifiche sulla potenziale tossicità sull'uomo sugli animali e altri sistemi non target e quindi anche per questo motivo si è deciso di andare su una pianta che non veniva usata per l'alimentazione ma soltanto per la produzione di fibre ed è quindi effettivamente quello che si è visto è che c'è stata negli anni una riduzione nell'uso degli insetticidi con l'aumento nel numero di ettari coltivati con piante BT ripeto inizialmente cotone poi con diciamo l'aumento delle conoscenze sulla possibile tossicità di questi costrutti anche poi esteso ad altre piante ad uso alimentare però ripeto Bacillus Turingiensis viene usato in agricoltura biologica poi è chiaro che c'è già in partenza un'accettazione un po' sul tipo di sostanza utilizzata posto che si chiama tossina sull'uomo non ha nessun effetto prima perché noi non abbiamo un tratto digerente alcalino ma ce l'abbiamo acido quindi il cristallo già solo non si disgrega e poi perché ci mancano proprio tutti i recettori per la tossina che l'insetto ha a livello dell'intestino quindi sull'uomo sono esclusi effetti di tipo nocivo ok quindi sicuramente dati inizialmente confortanti dal punto di vista del raggiungimento dell'obiettivo quindi di produrre riducendo dei costi riducendo anche un impatto sull'ambiente perché sono state fatte tantissime ricerche su queste piante e quello che si è visto è che effettivamente piante campi coltivati con piante GM per questa tossina BT hanno una maggiore varietà di insetti di animali rispetto a agricoltura tradizionale perché bisogna sempre confrontare le piante GM con le piante coltivate tradizionalmente quindi con il famoso impatto chimico di cui dicevamo prima negli ultimi tempi diciamo già da una quindicina di anni quello che si osserva è tuttavia un fenomeno che sta sollevando delle preoccupazioni che è l'insorgenza dei meccanismi di resistenza nel senso che se nei primi anni gli insetti erano tutti sensibili alla tossina presente nelle piante BT negli anni si è visto aumentare il numero di insetti resistenti allora questo è un qualche cosa che non ci deve sorprendere se noi pensiamo in termini di ambiente di selezione naturale questo è esattamente quello che succede in natura nel senso che se noi abbiamo una forte pressione pensate a un campo di ettari ettari di piante BT quindi è chiaro che gli insetti sono sottoposti a una pressione molto forte per cui l'insorgenza di una resistenza viene selezionata immediatamente quell'insetto sarà l'unico che sopravvive e quindi tenderà poi a mantenersi se l'ambiente è così restrittivo sulla resistenza quindi ripeto non è niente di diverso da quello che succede normalmente in natura forte pressione vengono selezionate ovviamente alcuni caratteri che consentono agli individui di sopravvivere in quelle condizioni solo che questo vuol dire anche per i produttori di piante Bt che devono cambiare qualche cosa nella formulazione quindi devono ci sono tante varianti di proteine Bt da livello genico vuol dire che devono andare a cercare delle varianti per cui non ci sia resistenza e questo ripeto è vero per qualsiasi tratto noi andiamo a inserire in una pianta coltivata perché c'è questo utilizzo esteso delle monoculture e quindi lì è chiaro che è un ambiente molto omogeneo dove se c'è una pressione di tipo selettivo su un fungo patogeno su un insetto fitofago quant'altro la resistenza viene subito fuori ok quindi questo tra l'altro ha anche insegnato interessante perché ha anche insegnato all'agricoltura diciamo intensiva il ritorno ad alcune pratiche agricole che si usavano nei tempi andati che erano per esempio il mantenimento di isole per noi una volta erano le siepi fondamentalmente in cui si manteneva la biodiversità quindi insetti pronubi uccelli quant'altro che non potevano sopravvivere in un campo in una monocultura pesantemente coltivata trovavano rifugio in queste zone limitrofe quindi le siepi zone di confine quant'altro allora qui è lo stesso concetto nel senso che noi dobbiamo dare agli insetti che vivono nelle zone agricole dobbiamo dare una zona di rifugio una zona dove non ci sia questa pressione selettiva molto forte che facilita l'insorgenza della resistenza e quindi quello che si fa fondamentalmente è che si coltivano piante GM ma normalmente si creano delle zone diciamo delle cinture in cui le piante non sono GM proprio perché su queste ovviamente la produttività si abbassa ma queste qui saranno una zona di rifugio per gli insetti quindi si riscoprono anche se vogliamo degli stratagemmi che venivano utilizzati più o meno insomma con lo stesso scopo una cosa che mi piace sempre così un po' sottolineare perché si pensa sempre alle piane soprattutto ripeto chi è un po' preoccupato dell'uso di queste piante pensa sempre appunto con molta preoccupazione un po' di sospetto per queste piante GM allora io visto che noi lavoriamo molto vengo dal dipartimento di scienze della vita sul funghi allora io faccio sempre questo esempio soltanto per come dire sollevare delle questioni che bisogna anche avere un po' presenti e sapete che forse che uno dei rischi maggiori che vengono dall'uso diciamo a uso alimentare di prodotti di origine vegetale soprattutto prodotti ricchi ad esempio di oli e il rischio delle micotossine le micotossine sono delle metaboliti secondari che vengono prodotti da alcuni funghi non che tutti i funghi producano micotossine ma alcuni funghi soprattutto funghi che crescono molto bene su alimenti di origine vegetale ora le micotossine sono tra le sostanze più pericolose e più sottovalutate probabilmente per la nostra salute perché sono sostanze sospette o accertate cancerogene sono sostanze in genere termostabili quindi non basta cuocere e dire si fa bollire e poi va tutto bene in realtà sono sostanze che permangono e anche a basse concentrazioni soprattutto un uso prolungato nel tempo porta all'insorgenza di patologie gravi allora come si collega questo discorso con le piante geneticamente modificate proprio legato alle piante BT allora se io ho una pianta che è trasformata con la tossina BT chiaramente avrò una pianta che si difende molto bene dall'attacco degli insetti gli insetti fitofagi che cosa fanno? attaccano i tessuti vegetali quindi creano delle zone di danno quindi uccidono parte dei tessuti e su quelle zone di diciamo su cui è arrivato l'insetto si instaurano poi popolazioni di funghi i funghi dove possono crescono soprattutto questi producono moltissime spore che viaggiano nell'area fanno parte dell'aereo disperso e che quindi andranno a colonizzare queste zone danneggiate e lì troveranno un ottimo pabulum essendo dei saprotrofi per crescere ora ripeto tra ceppi che possono crescere non tanto magari sulla pianta finché viva perché la pianta finché viva anche per i funghi qualche difesa ce l'ha ma soprattutto gli insilati una volta che i semi sono raccolti e messi in un silos in un ambiente dove c'è magari un pochino di umidità una temperatura è ovvio che l'insilato può veramente andare incontro a un attacco da parte di muffe che in alcuni casi possono essere dei produttori di micotossine ora quindi questo è un studio che vi riporto interessante ma ripeto solo un po' per un pensiero laterale per cui non bisogna solo pensare alla pianta e alla produzione da parte di queste piante ma anche una serie di effetti collaterali quindi qui che cosa è stato analizzato è stata analizzata l'attacco da parte di questo fusarium che cresce come saprotrofo quindi va a attaccare tessuti danneggiati su vedete delle spighe di mais ora questo particolare tipo di fusarium produce questa micotossina che si chiama fumomisina B1 e sono state analizzate coppie di piante geneticamente modificate in blu non geneticamente modificate in rosso per proteina Bt quindi queste sono diverse varietà di mais geneticamente modificate per la produzione di proteina Bt o meno quindi qui noi osserviamo la quantità di fungo diciamo la severità dell'attacco fungino su queste spighe quindi vedete che come ci si aspetta ci sono casi dove questo è significativamente molto evidente la trasformazione con questa proteina per la produzione di questa proteina porta a una riduzione drastica della diffusione di questo fungo in altri casi un po' meno evidenti però vedete la tendenza è sempre più bassa nel geneticamente modificato però la cosa più interessante qua nel senso che qui è stata misurata l'accumulo di funmonisina B1 in questi materiali e quindi vedete che nella pianta non geneticamente modificata noi abbiamo ovviamente il fungo cresce e produce mentre nella pianta geneticamente modificata il fungo non cresce quindi abbiamo uno scarso accumulo di questi metaboliti secondari quindi se vogliamo è un effetto collaterale che noi osserviamo ma comunque da tenere presente tra i possibili vantaggi nell'utilizzo di una trasformazione di questo genere ok io non so se voi in genere fate una pausa perché sarete un po' stanchi quindi non so se volete perché io adesso volevo affrontare proprio un po' un discorso delle principali obiezioni che sono state fatte che vengono fatte tutt'oggi alle piante transgeniche e poi volevo finire con diciamo delle così una discussione proprio aperta io ho ragionato un po' come questi su come questi argomenti possono anche essere portati in classe quindi siete voi che avete più esperienza però avevo qualche suggerimento soprattutto qualche link a dei video uno di quelli che vi ho fatto vedere ma ce ne sono anche altri quindi se volete magari fare una pausa adesso in dieci minuti e poi finiamo ok va bene se ci fermiamo un attimo una mezz'ora alla fin fine il tempo è passato e e quindi dobbiamo un attimo procedere allora anche perché se ho capito dobbiamo proprio liberare l'edificio allora le obiezioni allora io ovviamente ho un po' insomma inserito in questa diapositiva quelle che mi sembra siano proprio un po' le principali punti su cui ci si dovrebbe concentrare ci si è concentrati suddividendo diciamo in tre tipologie le problematiche legate alle piante transgeniche fermo restando che secondo me è uno dei punti chiave in quello che vi racconterò e poi distinguere quello che è il rischio reale dal rischio percepito perché quello è sicuramente una delle grosse problematiche legate alle piante geneticamente modificate cioè quello che è il rischio percepito dalle persone rispetto a quello che è il rischio reale è evidente che qualsiasi attività umana non è esente da rischio cioè comunque sia anche soltanto se io cammino attraverso quella porta sono a rischio mi potrebbe cadere la lampada sulla testa quindi è evidente che non c'è il rischio non esiste il rischio zero e quindi anche per le piante geneticamente modificate ci sono degli aspetti che devono essere considerati ci mancherebbe però c'è a fronte di quello che può essere il rischio reale e che adesso un pochino spero di approfondire c'è quello che è il rischio percepito quello è qualche cosa di apparentemente insormontabile per molte persone laddove come che spero di avervi fatto un po' vedere il rischio magari legato a sostanze chimiche notoriamente nocive non viene considerato come un rischio reale o comunque un rischio tollerabile come ad esempio il papà che lavorava nella vigna per lui la poltiglia bordolese era ma sì se fa bene se ammazza i funghi fa bene anche a noi quindi se questo è l'approccio chiaramente il rischio percepito molto basso ma il rischio reale in quel caso molto alto quindi io avrei appunto identificato questi punti cioè la preoccupazione per la salute umana cioè le piante OGM ci fanno male sono un problema un rischio reale per la salute e quindi sia effetti diretti sono state se vi ricordate il filmato che vi ho fatto vedere all'inizio questa studentessa che ha presentato molto brava a presentare anche una serie di aspetti in modo assolutamente convincente scientifico eccetera dopodiché ha fatto una serie di affermazioni che non sono supportate dai fatti per esempio gli effetti nocivi sulla salute umana diretti in realtà non sono stati dimostrati da tantissimi studi che sono stati fatti c'è tutto un discorso legato ai marcatori di selezione quello è secondo me è uno dei punti che andava affrontato e che ha avuto delle risposte anche delle soluzioni un secondo punto che è molto sensibile è la preoccupazione per quanto riguarda l'ambiente naturale gli organismi nell'ambiente naturale quindi con questi due aspetti che io chiamo effetti collaterali su specie non target cioè se noi andiamo appunto a costruire una pianta che ha una tossina che uccide determinati insetti rischio di andare a uccidere insetti che non c'entravano niente quindi questa è la domanda e poi c'è la famosa paura della fuga del transgene cioè questi geni che scappino dal controllo del campo coltivato e vadano a finire in natura e poi quello che secondo me è il vero problema che però va diciamo va oltre quelli che sono i confini di questo incontro che sono gli aspetti socio-economici quindi io vi farei un esempio perché secondo me lì sono alcuni grossi problemi effettivamente tenendo presente che allora io vi parlo fondamentalmente delle piante geneticamente modificate tramite ingegneria genetica classica quindi non inserisco in questo discorso il Gimonome editing perché alcune delle tematiche si applicano solo alle piante che nascono da un'ingegneria genetica altre sono dei caratteri più generali quindi diciamo teniamo anche presente queste due tipologie allora punto 1 preoccupazione per la salute umana come effetti diretti delle piante GM dei loro prodotti sull'uomo o sugli animali allora un concetto importante da tenere presente è che le piante non sono mai state controllate tanto per i loro effetti sulla salute umana come le piante geneticamente modificate che sono dalla normativa europea perlomeno considerate al pari di farmaci e quindi devono essere sottoposte a dei controlli molto stringenti sulla loro tossicità cosa che non avviene assolutamente per le varietà che sono ottenute attraverso incroci classici quindi il miglioramento genetico tradizionale quindi da questo punto di vista possiamo ovviamente torno un attimo indietro ovviamente i controlli che vengono fatti sono fatti su dei tempi che sono dei tempi brevi medi ovviamente non ci sono delle verifiche nel corso di decenni semplicemente perché non abbiamo una casistica così lunga quindi è ovvio che anche lì il rischio non è zero però da tutti gli studi che sono stati fatti su tempi brevi medi non è emerso nessuna tossicità legata alla pianta geneticamente modificata quindi legata alla tecnologia che viene utilizzata e ai prodotti che fino adesso sono stati ottenuti poi è evidente che se io voglio inserire in una pianta attraverso ingegneria genetica una potente tossina che uccide l'essere umano è evidente che quel prodotto nello specifico sarà tossico però contiamo ben di non arrivare a quello e non è ripeto la tecnologia che importa possiamo anche usare piante naturali che producono forti tossine molto pericolose e ce ne sono tantissime perché le piante producono tantissimi metaboliti secondari tossici per l'uomo e non abbiamo bisogno di ricorrere all'ingegneria genetica ok quindi diciamo non c'è una pericolosità legata alla piante che sono state prodotte fino ad oggi piante GM nonostante siano state veramente impegnate enormi risorse in particolare parlo della comunità europea sulla sicurezza degli OGM quindi 25 anni di sforzi centinaia di progetti di ricerca dimostrano che le piante GM non sono più rischiose delle tecniche convenzionali di breeding quindi se io mi affido a quelli che sono i controlli delle piante posso sicuramente fidarmi di più di una pianta GM che di una pianta non GM a rigore sì allora diciamo che in America c'è un principio diverso che quello di equivalenza nel senso che non c'è un controllo così rigoroso ripeto come se fossero dei farmaci ma se la manipolazione porta a un cambiamento in un carattere e la pianta sostanzialmente è uguale a quella di origine viene data un'equivalenza sostanziale poi è chiaro che i controlli si fanno per cui ci sono anche molti studi americani poi sulla effettiva tossicità o meno della pianta però c'è un controllo a monte sicuramente meno rigoroso il discorso è che la tecnologia di per sé non sembra portare problematiche se non il discorso che adesso volevo farvi sui marcatori di selezione come dico dipende sempre da che cosa esprime quella pianta quello che si spera è che non esprima niente di tossico per l'uomo come in generale diciamo se il prodotto serve per migliorare un aspetto dell'agricoltura non ci aspettiamo che necessariamente in modo non diverso sicuramente da una varietà che noi otteniamo in altro modo quindi non c'è una pericolosità ripeto della pianta GM può esserci un tratto in una qualsiasi nuova varietà che può essere e deve essere controllato giustamente ci sono delle varietà ad esempio che sul mercato americano erano state immesse e che portavano a fotosensibilizzazione quindi si è scoperto dopo e ovviamente sono state tolte dal mercato quindi il rischio zero ripeto non esiste però non è legato alle piante GM nello specifico ora il discorso sul marcatore di selezione allora questo è un discorso un pochino più complesso perché se vi ricordate vi ho detto che quando viene inserito in una pianta un vettore oltre al gene che porta il tratto di interesse noi normalmente inseriamo anche delle resistenze in prima istanza agli antibiotici semplicemente perché è molto facile andare a selezionare un organismo cresce o non cresce in presenza di un determinato composto che sarebbe tossico per la cellula a meno che la cellula non abbia acquisito l'organismo non abbia acquisito la capacità di per esempio degradare la sostanza tossica l'antibiotico e quindi di crescere quindi è per una questione proprio di manipolazione in laboratorio che è stata inserita nelle prime piante geneticamente modificata un marcatore di selezione come resistenza ad antibiotico allora dov'è la preoccupazione la preoccupazione è che la resistenza ad antibiotici è ovviamente un rischio reale soprattutto ne avrete sentito parlare ci sono ceppi multiresistenti soprattutto nelle zone dove c'è una concentrazione elevata di uso di antibiotici di persone che portano questi microrganismi ora per quanto riguarda quindi la resistenza la preoccupazione è ma se io mangio una pianta che è stata trasformata con un vettore di questo tipo se poi questo gene si trasferisce ad esempio a un batterio patogeno che si ritrova nel mio organismo noi abbiamo una flora microbica ricchissima e tra questi microrganismi ci saranno anche dei patogeni e quindi la preoccupazione è ma se poi questo gene passa a un batterio che vive nel mio intestino questo poi diventa resistente se quello è patogeno io poi come lo combatto allora ci sono il rischio potenzialmente c'è ma ci sono una serie di considerazioni prima di tutto allora lì bisogna sapere la biologia e sapere che i geni vengono visti come informazione genetica solo se possono essere letti dall'organismo quindi devono esserci a monte della mia sequenza di DNA che codifica per la proteina che va a distruggere l'antibiotico ci devono essere delle sequenze che devono essere viste lette ora se non ci sono quel pezzo di DNA viene visto come pezzo di DNA non come un'informazione genetica ma come una molecola da distruggere e utilizzare allora viene utilizzato agrobatterio intumefacens che è un batterio ora forse sapete che le sequenze che servono che sono a monte delle informazioni genetiche quindi della parte codificante di un gene sono molto diverse come sistemi di lettura e riconoscimento nei batteri quindi nei procarioti e negli eucarioti quindi tutto il sistema che viene costruito in agrobatterio intumefacens in realtà viene costruito per essere letto in una pianta quindi la pianta può leggere l'informazione che è un organismo eucariote quindi nel nucleo della pianta quell'informazione viene letta perché a monte ha un sistema che viene visto solo da un sistema eucariote un procariote agrobatterio intumefacen si porta dentro questo vettore ricombinante ma non lo sa leggere quella parte quel gene come se non esistesse perché c'è un sistema di lettura che non è lo stesso quindi quando noi ingeriamo del materiale vegetale possiamo ingerire sì parti del vettore ricombinante in realtà non del vettore ricombinante ma soltanto del tdna dove però c'è un sistema che viene letto da un eucariote se passa a un batterio della nostra tratta intestinale il batterio non lo vede neanche cioè non sa neanche che si tratta di un'informazione genetica lo vede come una molecola da degradare ok quindi già la preoccupazione sapendo un po' di punto di biologia e di differenze nella diciamo dell'informazione genetica nella sua lettura in un procariote in un eucariote dovrebbe tranquillizzare le persone c'è poi anche un altro discorso e l'altro discorso è che la resistenza agli antibiotici insorge normalmente quando c'è una pressione selettiva elevata quindi quando ci sono tanti antibiotici presenti nell'ambiente che è lo stesso problema che dicevamo prima per la resistenza alla proteina Bt da parte degli insetti quindi il problema non sono tanto le piante geneticamente modificate quanto il fatto che noi assumiamo normalmente e in media tanti antibiotici e li possiamo ingerire volontariamente quando ci vogliamo curare da una brutta influenza ma li possiamo anche ingerire non volontariamente quando mangiamo carni di animali che sono stati allevati con un pesante uso di antibiotici perché è ovvio che la produttività animale viene aumentata con l'aiuto di nuovo della chimica quindi non per niente adesso compare sempre più frequentemente proprio la dicitura che l'animale non è stato trattato con antibiotici negli ultimi sei mesi di vita proprio perché altrimenti noi andiamo ingerire antibiotici attraverso l'alimentazione quindi è la pressione selettiva che crea l'insorgenza che facilita l'insorgenza quindi forse ci dovremmo preoccupare piuttosto dell'abuso che viene spesso fatto di antibiotici nella popolazione nella sanità ok detto questo ripeto però se la preoccupazione c'è e c'è una percentuale di rischio bisogna correre ripare anche soltanto per ridurre il rischio percepito e quindi sono stati nel tempo sviluppati molti marcatori di selezione che non riguardano gli antibiotici quindi sono altre tecnologie oppure il genome editing è talmente efficiente che non c'è neanche bisogno di mettere un marcatore di selezione ok quindi si risolve il problema proprio alla base allora punto 2 preoccupazione per la salvaguardia della diversità naturale quindi delle specie in un ambiente naturale naturali allora anche qui ci sono stati tanti studi adesso se andate un po' in internet ci sono tanti siti adesso non ho pensato di fare proprio una sitografia un po' dettagliata ma se vi interessa posso ritrovare il dato e gli studi hanno dimostrato in larga misura che non c'è un rischio normalmente per le popolazioni naturali questo è se vogliamo il lavoro scientifico che ha fatto più scalpore dove apparentemente invece si dimostra che c'è una pericolosità della proteina BT tornando su questo tipo di prodotto su una farfallina molto amata dagli appassionati soprattutto in continente nordamericano perché la farfalla monarca che sapete fa queste migrazioni di massa per cui molto seguita allora la preoccupazione è stata ovviamente che la larva della farfalla monarca giustamente si nutre di foglie di materiale vegetale non si nutre ovviamente delle foglie delle colture quindi la farfalla monarca va sugli alberi non va sul campo di mais però il ragionamento è stato ma se la pianta di mais produce del polline nel polline c'è il costrutto e viene prodotta a questa proteina il polline va sull'albero che cresce vicino al campo di mais e la farfalla monarca la larva lo ingerisce c'è possibile rischio? allora è stato fatto un esperimento dove sono state cosparse delle foglie che sono l'alimento del bruco della farfalla monarca ed effettivamente testando una serie di diversi costrutti quindi diverse varietà di piante geneticamente modificate se ne sono trovate due adesso non mi ricordo su quante sono state testate in cui c'era effettivamente una riduzione della crescita nelle farfalle monarca e da qui quindi è stato fatto questo articolo dicendo attenzione attenzione di nuovo forse bisogna un po' contestualizzare il dato prima di tutto perché come vedete qui per avere degli effetti sulla farfalla monarca bisognava veramente che la foglia fosse completamente coperta di polline cosa che è difficile che si verifichi in un ambiente diciamo naturale perché le piante di mais è vero che producono polline ma proprio così tanto quindi ci voleva almeno una certa densità di granuli pollinici su superficie di foglia per avere un effetto dopodiché solo due di questi costrutti portavano effettivamente una riduzione della crescita e giustamente sono stati tolti dal commercio quindi sono stati eliminati in quanto avevano dato i problemi dopodiché molti hanno sottolineato però il fatto è che se fosse stato usato nel campo e quindi arrivando anche nelle zone limitrofe un insetticida probabilmente la mortalità di quelle farfalle sarebbe stata fin maggiore quindi di nuovo rischio reale e rischio percepito rischio non è che non esistesse ma sicuramente molto inferiore a quello che diciamo dichiarava questo lavoro che è uscito tra l'altro su una rivista molto prestigiosa ma è stato poi diciamo discusso e oggetto di varie considerazioni poi subito dopo l'altra preoccupazione per la salvaguardia diciamo dell'ambiente naturale è la dispersione del gene che è stato inserito nelle piante coltivate allora quella che viene chiamata anche la fuga del transgene con quest'idea che e come sentivamo anche nel video che queste tratto passi dalla pianta coltivata alle piante presenti nell'ambiente naturale creando dei superorganismi che sfuggono poi al controllo da parte dell'uomo ad esempio piante che sono resistenti a degli erbicidi e quindi diciamo una preoccupazione di contaminazione da questo punto di vista allora anche qua come dico sempre un po' il rischio c'è dipende nel senso che ci sono piante molto coltivate in Europa che non trovano nell'ambiente naturale delle piante sessualmente compatibili delle piante naturali sessualmente compatibili il mais il mais viene dal centro america e non c'è un analogo selvatico del mais o un qualche cosa con cui il mais possa incrociarsi trasferendo il carattere genetico ad esempio proteina bt quindi se non c'è una pianta compatibile nell'ambiente naturale il problema non sussiste le piante tra l'altro coltivate vi ricordo che hanno questa sindrome da domesticazione non è che voi trovate l'ambiente naturale colonizzato dalle piante del mais il mais sta nei campi di mais proprio perché sopravvive in quelle condizioni è molto poco competitivo in un ambiente naturale quindi la fuga della pianta geneticamente modificata coltivata difficile proprio perché le piante coltivate vivono benissimo nel loro campicello la fuga del transgene quindi solo del carattere ripeto dipende da quello che c'è intorno dalla specie in questione mais non ci preoccupiamo ci sono però piante geneticamente modificate ad esempio in Inghilterra si usa molto la colza allora la colza certo è una brassica e ci sono molte specie naturali dello stesso genere e sono sessualmente compatibili quindi il rischio teoricamente c'è dopodiché di nuovo bisogna anche un attimo chiedersi se il tratto che viene trasmesso eventualmente è un tratto che conferisce un vantaggio alle specie nell'ambiente naturale perché se non conferisce un vantaggio come tutti i tratti inutili potrà essere anche perso nel tempo ad esempio la resistenza all'erbicida se noi non andiamo a spruzzare il bosco con l'erbicida e speriamo di non doverlo fare quel tratto resistenza all'erbicida non è di nessun vantaggio a quella pianta quindi magari se lo tiene ma non le serve a niente magari lo perde essendo un tratto che non conferisce un particolare adattamento all'ambiente in questione potrebbe esserci piuttosto il rischio opposto che se quella pianta è resistente agli erbicidi magari invada il nostro campo quindi quello è un altro discorso che però è una preoccupazione dell'agricoltore non tanto per l'ambiente naturale quindi ripeto rischio zero non c'è i flussi genici però sono sempre stati proprio la base della variabilità genetica quindi dipende tutto dalle pressioni che ci sono in un ambiente naturale che sicuramente sono molto diverse dalle pressioni che ci sono in un ambiente agricolo quindi bisogna vedere carattere per carattere dopodiché ci sono teoricamente delle soluzioni molto drastiche nel senso che si dice anche nel video ma si dice abbastanza comunemente uno dei problemi delle piante GM è che sono sterili allora non è vero le piante GM possono tranquillamente riprodursi il problema che cos'è è che in agricoltura si è andati ma da molti anni verso l'utilizzo di sementi che non vengono propagate negli anni ma vengono acquistate tutti gli anni questo ovviamente fa un po' gli interessi dei venditori delle sementi ma anche un po' dei coltivatori perché farsi i propri semi vuol dire passare attraverso ovviamente un incrocio una fecondazione di tipo sessuale quindi con una variabilità genetica poi nella F1 per cui noi avremo piante più alte piante più basse a seconda il coltivatore è più contento di avere piante tutte uguali quindi l'acquisto di sementi dalle aziende sementiere certamente è interesse commerciale delle aziende vendere ma c'è anche un interesse da parte del coltivatore di avere delle piante più omogenee quindi le piante GM non sono intrinsecamente sterili se noi vogliamo renderle sterili ci sono gli strumenti ci sono ibridi sterili che vengono ottenuti c'è il famoso gene terminator che in realtà non è mai stato applicato all'agricoltura è in teoria un modo per rendere sterili i semi attraverso una manipolazione genetica quindi se noi vogliamo le possiamo rendere sterili le piante GM quindi nulla vieta bisogna vedere se effettivamente ne vale la spesa nel senso se c'è veramente questo rischio di fuga del transgene e qui veniamo a quello che ripeto secondo me è il problema principale su cui io ho solo competenza molto parzialmente quindi non mi fate domande difficili che sono gli aspetti più di tipo socio-economico in particolare la dicotomia tra ricerca pubblica e ricerca privata e vi faccio un esempio che molti di voi conosceranno che è l'esempio del golden rice per farvi toccare con mano come il problema di base è che i costi che vengono chiesti in particolare in Europa per la produzione di piante EGM è tale che la ricerca pubblica non se lo può permettere perché non ci sono investimenti sufficienti nella ricerca pubblica per poter sostenere le spese legate soprattutto ai controlli che vengono richiesti dalla normativa Allora il caso emblematico del golden rice nasce in realtà nella fine degli anni 90 da una intenzione umanitaria diciamo di questo ricercatore svizzero che aveva pensato aveva come obiettivo quello di migliorare il valore nutrizionale del riso arricchendolo in provitamina A cosa di cui il riso è praticamente privo inserendo due geni per la sintesi del betacarotene la vitamina A soprattutto la carenza di vitamina A porta a delle cheratosi cecità tantissimi problemi soprattutto in età infantile e quindi popolazioni che si nutrono quasi esclusivamente di riso possono avere grossi problemi da questo punto di vista se non c'è una dieta variata e quindi diciamo l'intento era quello di affrontare questo grosso problema legato all'alimentazione inserendo la via metabolica che porta alla produzione del betacarotene prendendolo prendendoli questi geni almeno in parte dal narciso che ha questo il tromboncino che ha questa colorazione molto e tra l'altro l'intento dell'ideatore di questa manipolazione genetica era proprio quella di farlo arrivare ai coltivatori soprattutto delle paesi poveri quindi è stato brevettato il golden rice ma proprio per tenerlo al sicuro dalle diciamo dalle interessi delle grosse aziende multinazionali per cui è stato dato un libero utilizzo per gli agricoltori lo income un libero utilizzo per la ricerca e tra l'altro la possibilità di riprodurre autonomamente per seme quindi proprio giocando sul fatto che non sono sterili le piante GM dov'è il problema? il problema è come vi dicevo che la regolamentazione europea prevede una serie di controlli come se stessimo ideando un farmaco come se stessimo sviluppando un farmaco che sapete che è un qualcosa che solo le grosse industrie farmaceutiche possono affrontare dal punto di vista economico e quindi nonostante che la ricerca sia iniziata in una università pubblica e quindi sia stata portata avanti nelle prime fasi dall'università pubblica alla fine ha dovuto per forza ricorrere a un intervento da parte di industrie private che producono semi come singenta per poter affrontare proprio alcuni passaggi di controllo richiesti dalla normativa ok quindi con dei costi che il pubblico non ha potuto affrontare con dei tempi anche tra l'altro molto lunghi vedete questa è una vecchia diapositiva del 2010 che punto interrogativo 2012 arriviamo finalmente a un'applicazione in campo allora questo è uscito dicembre 2019 allora 2019 dicembre esce finalmente c'è un nulla osta da parte del del governo felippino di coltivare e raccogliere utilizzare per la produzione di cibo il golden rice con quindi pensate i tempi che ci sono che sono intercorsi dalle prime sperimentazioni con un ritardo che è dovuto in larga parte oltre a quei controlli normativi anche al fatto che poi ci sono stati tanti brevetti in mezzo perché ovviamente oggi in passaggio è stato brevettato e quindi chi era il detentore del brevetto quindi bisognava c'è stato veramente una cosa molto lunga e complicata tra l'altro scoprendo solo a vent'anni di distanza che tutto sommato quel golden rice che era stato ottenuto in partenza era interessante per la produzione di beta carotene ma non era così adatto a crescere in quegli ambienti quindi adesso quello che si sta anche facendo è in realtà inserire quel tratto nelle varietà locali perché la produttività non è poi così elevata quindi ma prima di scoprirlo ripeto ci si è passato tantissimo tempo ok quindi ripeto un caso un po' emblematico che secondo me sottolinea questo qui è un brano preso da un documento molto interessante della società di genetica agraria e la società di biologia vegetale portata al senato della repubblica proprio in una discussione più generale sul genome editing e sugli OGM quindi non stiamo a leggerla ma ve la lascio poi come diapositiva perché ha degli spunti interessanti quindi secondo me ripeto quello che è il grosso problema oggi è chi gestisce questa sperimentazione e questo tipo anche di sviluppo di nuove varietà il pubblico ha un controllo che secondo me è corretto da parte della comunità il privato ovviamente fa i propri interessi ma è l'unico in questo momento in grado di affrontare i costi economici che sono richiesti per il controllo di queste piante quindi secondo me lì è veramente un po' la questione delicata tant'è che hanno fatto servizi anche molto interessanti su come le aziende impongono dei contratti abbastanza stringenti ai coltivatori d'altra parte come fanno anche le ditte ad esempio c'era un servizio anche sulle famose mele del Trentino anche lì c'è lo stesso tipo di approccio contratti molto stringenti a chi puoi vendere che trattamenti devi fare quanti ne devi fare via dicendo quindi non è la tecnologia la pianta GM ma è proprio la logica del privato che impone un po' le proprie regole con ciò allora io credo che siamo andati un po' in là nel tempo e mi chiedo scusa perché volevo lasciare proprio spazio per la discussione e quindi niente io lascerei la parola a voi queste ve le lascio a disposizione ci sono anche alcune domande vero o falso che potrebbero essere così domande da porre agli studenti qui c'è una risposta non sempre sono chiarissime però l'ho trovato su un sito che mi sembrava per il resto ben fatto grazie